Claudio Di Niro, collaboratore tecnico dell'FC Molise, la squadra che ha superato i play-off in prima categoria ed è passata in promozione. Sì, siamo giunti in promozione dopo tantissime partite. L'ultima partita è stata la più bella perché abbiamo vinto Agnone un 4-3 veramente superlativo. Faccio un applauso ai miei giocatori, a tutto il gruppo e soprattutto ringrazio Maurizio Mitro che mi ha accolto nel suo staff. E' lui che mi ha voluto per poter dare una mano molto molto utile a questa squadra. Nella prossima stagione dunque c'è la riconferma? Non lo so, so solamente che loro stanno facendo qualcosa di importante per la piazza di Campobasso, ma è normale che ci vogliono i tempi che ci vogliono. Però io l'ho detto un po' a tutti, anche se mi sto girando attorno perché fortunatamente qualcuno si ricorda anche di me. La priorità è l'FC Molise, sia per il gruppo, sia perché abbiamo vinto e sia perché sono una persona che ci tiene a certi valori e quindi la prima scelta è sempre l'FC Molise. Claudio Di Niro però è allenatore di Molise Distribuzione Automatica, lo sponsor che ha vinto nel torneo di Ripa Limosani. Prospettiva invece per il torneo della Madonna del Carmine di Riccia? Beh, sarebbe bello per lo sponsor vincere anche quest'altro torneo. Io dico che adesso, questa sera, quest'altra vittoria, siamo passati già al turno successivo. Però sarebbe bello affrontare la squadra che, a detta di tutti, dovrebbe vincere questo torneo, che dobbiamo affrontare il 4 luglio, di fare bella figura. Poi approderemo agli ottavi, lì vediamo cosa c'è.